siamo qui al centro commerciale mille colori al periodo di sotto il periodo di natale qui chitarra classica 22 90 chitarra rock 28 80 pianola qua c'è la pianola 48 euro roba per barbie violetta puzzle a puzzle 1 euro e 99 ecco guardate qua 74 euro tastiera digit è una miseria ragazzi che roba qua le auto 325 euro stava a 165 euro la smart smart questa 144 euro insomma pianoforte cioè di tutti i gusti è 52 33 28 eccolo qua karaoke tastiera digit karaoke 55 batteria la batteria 65 da risparmio casa